Ecco com'è il mondo Ecco come lo vorremmo noi Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare mettendo in pericolo l'egosistema marino rovinando le spiagge e danneggiando la salute degli esseri umani Uccelli, pesci, balene, tartarughe Un milione e mezzo di animali ogni anno sono vittime di rifiuti di plastica scaricati negli oceani E il problema è destinato a peggiorare se non si interromperà lo sversamento dei rifiuti di plastica Entro il 2050 negli oceani ci saranno più plastiche che pesci A causa di questo in media ogni settimana ciascuno di noi ingerisce 5 grammi di plastica Nell'arco di un intero anno mangiare invece un intero piatto di plastica per un totale di ben 250 grammi L'inquinamento ambientale incide notevolmente sulla salute e sul benessere dell'uomo secondo le più autorevoli fonti di informazione scientifica Almeno l'80% di tutte le patologie di tipo generativo sono causate dall'inquinamento ambientale Ecco le buone regole per salvaguardare l'ambiente Spegni la luce, ricicla, chiudi l'urbinetto, proteggi le api, mangia più verdura Grazie per la visione!